E' importante per tutti i ragazzi che sono qui nel locale ripetere insieme a me queste parole Questa musica elettronica E' importante per tutti i ragazzi che sono qui nel locale ripetere insieme a me Attenzione qualcuno non ha cantato insieme a me da questo momento ripeto da questo momento Chi non canta insieme a me non trova più per tutta la vita Questa musica elettronica Questa musica elettronica Questa musica elettronica Sì, devo dire che siete stati molto bravi, però il gioco non è ancora finito. Da questo momento, da questo momento, il gioco si fa sempre più duro. Attenzione, da questo momento, chi non batte le mani a tempo di musica, non trova, e dico non trova, per tutta la vita. Questa musica elettronica, questa è musica stereofonica, questa musica elettronica, questa è musica stereofonica. Questa musica stereofonica, 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 stereofonica. Questa è musica stereofonica.